barca allora e dirò l'unico ricordo presente nella mia memoria che mi turba ci sono io che vado in un parco vedo una fila di barche ma a quel punto provo sempre una sensazione insostenibile e non riesco a ricordarne che dei frammenti dissi questa sensazione insostenibile è di tristezza di dolore se così fosse il problema non andrebbe affrontato in modo sbrigativo e ci limiteremo solo a parlarne no è una sensazione di gioia struggente che mi fa desiderare di ricordare meglio riesco a ricostruire la scena a grandi linee ma ho la sensazione che ci sia stato qualcosa di importante magari legato a un semplice dettaglio penso che il ricordo risalga al periodo in cui da piccola mi separai per sempre da mia madre ma il mio paese la maggior parte degli eventi si svolgeva in quel parco quindi diverse cose si mischiano e la successione temporale è confusa e per questo ricordo solo in modo frammentario va bene provi a chiudere gli occhi adesso respirì regolarmente continui a restare cosciente ma quando glielo dirò io cominci pian piano ad andare indietro nel tempo disse la dottoressa per accompagnare un amica che aveva avuto un leggero esaurimento dovuto al troppo lavoro mi trovai a frequentare lo studio di una dottoressa specializzata in terapia dell'iplosi la mia amica voleva che andassi sempre con lei quindi anch'io in quei mesi nei quali la aspettavo lì ogni volta finì per conoscere bene la dottoressa dato che la mia amica fissava sempre l'appuntamento sul tardi e che la dottoressa una signora di mezza età era un'amica di sua madre finita la seduta prendevamo spesso un tè tutte e tre insieme chiacchierando e fu così che prendendo spunto da una mia domanda buttata lì per caso su quello che si poteva fare con la ipnoterapia deciso di approfittare dell'occasione la prossima volta che fossi andata per indagare su una cosa che mi stava a cuore andando a ritroso nel tempo arrivai a quando avevo sei anni mi sentivo il corpo pesante e la mia voce risuonava ovattata e lontana hai sei anni c'è qualcosa che ti turba collegato a delle barche riesci a vederle a occhi chiusi in quello stato di intorpidimento simile a un sonno leggero la prima cosa che vidi affiorare nella mia mente furono delle barche che galleggiavano sull'acqua di notte e ondeggiavano cicolando poi con forza inaspettata nel buio dietro le mie palpebre tutto a un tratto apparve un paesaggio bellissimo che non sembrava di questo mondo la superficie dell'acqua dove si riflettevano tante luci era un leghetto sulla sponda erano allineate alcune barche che ondeggiavano lievemente al vento la riva era ricoperta da fiori di loto e qui e là nel buio si aprivano i loro grandi fiori rosa se ne vedevano molti fino alla riva opposta in lontananza nel cielo brillava minuta la luna la bellezza del rosa di quei petali incredibilmente delicati si imprimeva con tanta forza nello sguardo che tutto il resto del campo visivo appariva sfocato il paradiso deve essere un posto così a dirlo era stata la persona che mi teneva per mano sì mamma risposi sollevando lo sguardo verso di lei ricordai chiaramente quel viso che avevo quasi dimenticato grandi occhi volitivi il naso pronunciato come quello di una straniera un abito strano tutto colorato orecchini aveva sempre un odore dolce di alcol poi mentre seguivo le istruzioni della dottoressa la scena gradualmente si allargò e le sensazioni di quel momento tornarono a rivivere in me con dolorosa chiarezza così finalmente riusci a ricordare tutto di quella notte quando finì l'ipnosi il cuore mi batteva forte ed ero quasi in lacrime perché l'avevo dimenticato pensai avevo cancellato tutto come non fosse mai accaduto rimergendo da un lungo silenzio che aveva preoccupato la mia amica e la dottoressa infine dissi grazie di avermi aiutato a ricordare era un ricordo molto prezioso il paese dove si trova la mia casa paterna non è un posto particolarmente famoso ma del piccolo castello con intorno un parco e nel parco un laghetto se si guardava la sagoma del castello dal laghetto l'effetto era curioso perché uno non capiva più in che epoca si trovava anche se nell'acqua si riflettevano le luci al neon in lontananza si vedeva solo la torre del castello con la luna sullo sfondo erano anche bancarelle che vendevano crepe e altro il laghetto dai miei ricordi era quello conservavo chiaramente memoria del giorno in cui era arrivata la mia nuova mamma e lo ricordavo spesso e volevo molto bene al punto che nei momenti più duri dentro di me la chiamavo mamma pensavo sempre a come sarebbe stato bello se lei fosse stata la mia vera mamma perciò ricordo bene il giorno in cui questo desiderio si avverò il babbo ed io aspettavamo su una panchina di fronte al laghetto era un freddo giorno d'inverno avevo sette anni e aspettavo con le mani in tasca dondolando i piedi mio padre era atteso sulle spine ma cercava di nasconderlo fingendosi calmo e forte mentre aspettavamo avevo bevuto della mazzacche era molto caldo di un bianco opaco e dolce che buono pensai c'era aria di neve il cielo brillava a cupo e il mio viso era freddo la nuova mamma venne correndo verso di noi aveva un cappotto arancione e i suoi passi risuonavano nella corsa mio padre era terribilmente teso in mezzo al laghetto non c'era neppure una barca e la superficie dell'acqua era calma i vetri degli edifici che riflettevano il cielo che brillava a cinereo avevano una strana tinta i piccioni passavano in volo e si allontanavano il babbo e la nuova mamma si salutarono brevemente poi lei strinse la mia mano fredda e disse diventerò la tua vera mamma miglio questa volta per davvero penso che avesse detto così perché una volta l'avevo messa in serio imbarazzo dicendole tra i singhiozzi se non diventi la mia mamma vera non ti vorrò più bene in quel momento vedendo che gli occhi della nuova mamma traboccavano di lacrime anch'io cominciai a piangere restammo lì a piangere tutte e due a lungo non riuscivo a smettere tanto che mi venne il mal di testa ricordo che in quell'aria gelata solo le lacrime e le nostre mani intrecciate erano calde attraverso gli occhi bagnati di pianto il paesaggio sembrava più vicino in quel momento i piccioni il castello il leghetto le barche tutto diventò mio anche i sassolini ai miei piedi erano molto familiari tutto sembrava dirmi che non avevo più bisogno di fare tanti sforzi ormai avevo raggiunto il limite saremo felici insieme sì saremo felici ricordavo tutto perfino il cappotto marrone di mio padre in piedi che guardava imbarazzato facendo finta di non vedere la bambina e la sua nuova mamma che si scambiavano giuramenti eppure avevo dimenticato la mamma da cui mi ero separata in quello stesso posto era stata rapita da mia madre che mi aveva tenuto con sé per alcuni giorni essendo alcolista era stato detto che non aveva i requisiti per avere il mio affidamento così era scappata portandomi con sé questo lo ricordavo bene mi aveva portato in un albergo termale il più lussuoso della regione e lì per tre giorni e tre notti avevamo mangiato bevuto e fatto il bagno ogni sera mia madre mi diceva piangendo resta con la mamma che ti farà sempre fare questa vita io rispondevo starò lo stesso con te mamma non c'è bisogno di fare questa vita la sera dell'ultimo giorno di viaggio la mamma per aver bevuto troppo per alcuni giorni di seguito cadde nel bagno il babbo fu avvisato e fumo rapidamente scoperte stai tranquilla ti permetterò di vederla quando vorrai e diceva mio padre al telefono ricordo la tristezza con cui dal mio soffice futon guardavo la figura di mia madre di spalle che annuiva come una bambina poi si infilò nel mio futon e pianse disperatamente mi ripeteva vorrei stare sempre con te non mi vorrei separare da te nemmeno per un'ora ti voglio bene come una parte del mio corpo il suo fiato che puzzava di alcol e i capelli bagnati mi davano fastidio ma mi sembrava incredibile il fatto che non avrai potuto più incontrarla non avrai più potuto vivere con lei quando adesso mi era così vicina che mi bastava allungare la mano per toccarla potevo fare il bagno con lei e farmi lavare e solo poco prima c'eravamo scambiati i piatti durante la cena mi sembrava incredibile che lo stato avesse deciso una cosa simile e che la nonna così buona l'avesse approvata e poi l'ultima sera in quel parco la mamma e io ci separammo sotto gli alberi di ciliegio tutti i verdeggianti di foglie estive si sentiva l'odore dell'acqua assomigliava un po all'odore del mare miglio vieni qui mi chiamò la mamma dall'oscurità la sua ombra sembrava galleggiare tra il verde poi prendendomi la mano e stringendomi a sé oltrepassò alcune barche che erano lì ancorate e raggiunse quella che era più vicina al centro del laghetto la barca era legata quindi era impossibile remare ma mentre eravamo sedute lì una di fronte all'altra avevo la sensazione che la superficie dell'agua avanzasse ogni volta che la barca oscillava leggermente per il nostro peso delle piccole onde si propagavano sull'acqua i fiori di loto si susseguivano come in un sogno le foglie sembravano avere i palmi delle mani aperti verso il cielo pensavo che avrei voluto diventare piccola piccola e scomparire così in quel momento in mezzo a quel susseguirsi di fiori odiavo il paesaggio della separazione che feriva il mio cuore di bambina più la notte diventava bella più mi sentivo triste la barca oscillava con un cigolio il vento estivo attraversava la superficie dell'acqua dolcemente come se la leccasse la mamma sai va da una persona a cui vuole bene e a quella persona piacciono le pistole disse la mamma in mano teneva una bottiglia di grappa era il liquore che beveva sempre ricordando l'etichetta con uno strano disegno quando sono diventata grande ho scoperto che quella bevanda che la mamma mandava giù come se niente fosse direttamente dalla bottiglia era grappa le pistole per quanto bambina pensai questo non va la mamma sorrise non è che gli piaccia uccidere le persone gli piace solo sparare ha detto che gli piace perché quando prende in mano una pistola grazie al suo peso in un lampo pensa alle cose della vita dice che quando spara viene attraversato da una scossa e in quel momento capisce la vita sua e quella degli altri e dice che vuole vivere senza dimenticare nemmeno per un istante quella sensazione non avevo mai incontrato uno che pensasse alla vita così seriamente perciò sono rimasta impietrita sai le altre persone non capiscono nemmeno se sono vive o morte non ti vedrò più mamma ho pensato di andare alle hawaii con quel signore e di mettere su una bancarella di crepe vieni a trovarci quando sarai grande quando vorrai ti cucinerò gratis delle crepe dolci dolci mi vanterò con i vicini dicendo questa è mia figlia e poi non farò mai altri figli oltre a te ho deciso sarai tu l'unica bambina della mamma l'idea delle crepe era probabilmente nata lì per lì guardando la bancarella con la scritta crepe che nel frattempo aveva spento le luci ma a proposito dei bambini parlava sul serio i suoi occhi che brillavano mi facevano paura in quei momenti la mamma era sempre seria erano gli stessi occhi di quando aveva colpito papà col coltello da cucina e di quando mi aveva picchiata per una bugia che le avevo detto fino a farmi sanguinare il naso fece annuendo restammo a lungo nella barca senza parlare restammo in silenzio per tutto il tempo fino a quando non potei più trattenere la pipì continuavo ad assaporare intensamente quella bella notte quasi come per farmi del male non so perché pensavo con forza che dovevo ricordare tutto sicuramente in quel momento i miei occhi emanavano una luce identica a quella degli occhi di mia madre non ti dimenticare mai della mamma ma non guardare mai indietro al passato disse oltre il suo profilo nitido si vedevano i fiori di loto e il castello in quella piccola città non c'era posto per una donna come lei io lo capivo come quelle barche legate lì sarebbe marcita e sarebbe morta lo sentivo piangendo la mamma telefonò al babbo la cabina telefonica risplendeva nel buio la schiena della mamma che piangeva era curva il laghetto i fiori di loto l'acqua scura la superficie splendente del laghetto il neon la sagoma del castello tutto era troppo bello il mondo troppo grande mi sembrava che il cuore mi scoppiasse il papà ha detto che viene a prenderti disse la mamma tra i singhiozzi e mi abbracciò le nostre guance si toccarono calde a causa della notte calda e umida la camicia era impregnata di sudore vi era un odore intenso in cui si mischiavano acqua e vegetazione la mamma non mi teneva stretta il suo abbraccio mi circondava come un grande anello come ali che proteggono un uovo poi piangendo si diresse verso l'uscita del parco e barcollando si allontano in fretta senza voltarsi indietro avrei voluto seguirla ma andare alla guai insieme a lei e a quell'uomo cui piacevano le pistole non faceva per me volevo vivere una vita tranquilla anch'io a dire la verità ero stanca della mamma non meno di quanto lo era mio padre eppure avrei voluto seguirla buttare via tutto e attaccarmi stretta a lei avrei voluto gridare non mi uscivano lacrime la luna era sospesa in cielo quando la luna scomparirà e verrà il mattino tutto sarà passato pensai dio ti prego ferma il tempo l'odore della mamma leggiava ancora nell'oscurità nell'oscurità che leggiavano i boccioli ancora chiusi dei fiori di loto che resti tutto così ti prego e a quel momento in poi non riusci in nessun modo a ricordare nulla pare che a causa dell'angoscia e dell'intensità di tutte quelle esperienze per qualche tempo io abbia smesso di parlare sia stata ricoverata in un ospedale e abbia dovuto prendere delle medicine quando dopo aver ricordato usci con la mia amica la casa della dottoressa era già notte è stata una cosa che ti ha fatto piacere ritrovare chiese la mia amica dimentica del suo esaurimento mentre camminavamo in quella strada residenziale per metà era curiosa per metà si sentiva responsabile ma il suo sguardo era affettuoso sì era un piccolo ricordo insieme a mia madre da cui mi sono separata quando ero bambina cosa fa adesso non lo so che tipo di persona era era bella ma pensa io ero convinta che la tua mamma attuale fosse la vera madre è come un'amica intima fanno quattro anni che mi sono iscritta all'università e sono venuta a vivere qui e ci parliamo al telefono tutti i giorni e quando litiga con mio padre viene a dormire a casa mia cose del genere sono rare beh siamo persone mature dissi mi succedeva ogni tanto quando ero in mezzo alla natura di pensare che strano è come se fossi stata abbracciata da qualcosa di morbido la sensazione di un uovo che viene avvolto con delicatezza adesso capivo la ragione pensai dopo aver ritrovato quei ricordi forse potrò percepire il mondo più vicino e più vivo di com'è stato per me fino ad ora il ricordo di una barca che galleggia sulla superficie dell'acqua scura il ricordo di una donna che mi abbracciava dolcemente come se avvolgesse un uovo